Il Piedi Rosso e lo Sciascinoso Il Piedi Rosso e il Primo Taglio, fra dieci giorni il secondo a Via Cilea. Quattro orti messi a disposizione salvano il paesaggio attraverso l'agricoltura. Diverse sono le finalità di un orto urbano. Anzitutto la cura del terreno favorisce il contenimento e la stabilità. La conduzione partecipata dell'orto assicura poi la tutela del paesaggio cittadino e crea opportunità di piccola economia nel sodalizio di persone che concorreranno alla gestione della terra e dei suoi prodotti. All'inaugurazione hanno preso parte l'assessore all'ambiente Sodano, l'assessore ai beni comuni Lucarelli, l'assessore alle partecipate Re Alfonso e il rettore della Federico II Massimo Marrelli. La nostra idea come amministrazione è di portare gli orti urbani, gli orti sociali in tutta la città. Aree da recuperare, come in questo caso, che diventano un'opportunità anche di lavoro, di conoscenza dei prodotti, di prodotti biologici che possono dare anche una fonte di reddito a chi le gestisce. Nei prossimi giorni un nuovo orto urbano sarà inaugurato a Via Cilea e fra qualche mese un terzo orto a Chiaiano.